Grazie a tesoro di Federica Pia, oggi vi avevo promesso dei cuccioli nuovi, veramente belli e ve li faccio vedere, anche se alcuni sono prenotati, però ve li faccio vedere per questa femmina, com'è bella, fatti vedere che sei bella, occhio blu, lei veramente è una curioso, una orecchia piccolina, guardate, crema, 60 giorni, piccolissima. Si cedono solo col vaccino e con l'imbrato sanitario, che è fondamentale, adesso vi faccio vedere un'altra coniglietta, altra femminuccia fatta per, hanno caldo, occhio azzurro anche lei, 60 giorni, sono piccole, ma hanno caldo, l'orecchina piccolina, fatti vedere come sei bella, e hanno tanto tanto caldo, è vero che è caldo? Questi qua ci sono 28 gradi, quindi direi proprio di sì. Intanto non sono riuscita a non farveli vedere, vi faccio vedere per notabili, i piccoli della mia mini loop, sono mini loop e c'è anche un ciocco sembra, vi li faccio vedere. E papà, sei contento? A domenica che senti tra i conigli, ti piace o no? Dopo metti la 18, la nera che devo finire. Andiamo avanti, vi faccio vedere i miei altri cuccioli mini loop. Prezi estivi, sono tutti ceduti col vaccino, il libretto sanitario e ci tengo, e tanto amore, i nostri sono abituati alla lettiera, per dare dei cuccioli veramente da famiglia, perché è un cucciolo non socializzato, non cresciuto in famiglia, ma tenuto diciamo tra virgolette come un coniglio normale, non diventerà come i nostri, che sono comunque dei cagnolini, voi li potete vedere, sono veramente cuccioli da famiglia. Vi faccio vedere gli altri ragazzi, andiamo. Qua vi faccio vedere questo gioiellino qui, guardate le orecchie piccole, testina tonda, crema, occhio chiaro, guardate l'occhietto azzurro, femmina. Esa bene al vento, femminuccia, grande, viva le donne, sempre viva. Camina, bellissima, si ha mese blue point, questa può darsi che me la tengo io però, perché è troppo bella, è una selezione mia, guardate l'orecchia corta, testina tonda, occhio blu. Femminuccia, che ha caldo, amore, dice ho caldo, ero dalla mamma, adesso ci arrivai dalla mamma. Eh, è vero? Amore, qua l'ho messo sull'erbetta fresca, ma... Ragazzi, maschio, split, pulvo. Amore. Orecchina piccola, tonda, guardate che musetto, maschietto, Rocco, questo lo chiamiamo Rocco, troppo bello, Rocco, Rocco, guardate l'occhio blu. Doviamo pulire l'occhietto, visto che l'occhietto è un po' sporchino, adesso mamma, vieni con la mamma che andiamo a pulire. È vero? Sì. Ragazzi, un'altra femminuccia, occhio cerulio, azzurro. Siamese, anche questa, vedete l'orecchina del Siamese, Siamese. Ed è piccolina anche lei, fantastica. Piccolina, piccolina, piccolina. Ragazzi, femminuccia, Harley Quinn, colorazione, 64 giorni, disponibile, buonissima, abituata anche lei alla lettiera, ed è veramente coccolondosissima, questa è proprio abituata sempre in braccio a mia figlia, quindi è dolcissima, disponibile, femmina. Un po' di questo, e il nostro, 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 e il nostro Grazie a tutti